Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Turbo Daily. Questa mattina gli operatori hanno trovato le borse in segno negativo, forti vendite non soltanto sui mercati europei ma già con l'apertura dei future americani abbiamo visto come diciamo l'indicazione di giornata sarebbe stata negativa. Questo è dovuto sostanzialmente a due fattori, da un lato la situazione legata al coronavirus e in particolare alla variante Omicron, in secondo luogo invece alle tensioni relative al piano Biden da 2.000 miliardi. Tutte queste situazioni ovviamente non facilitano diciamo gli acquisti sui mercati finanziari e quindi molti operatori decidono di alleggerire. Ricordiamo che venerdì è stata la scadenza tecnica dei future e di tutto il resto quindi è normale che questa giornata sia un pochettino interlocutoria ma chi probabilmente doveva liquidare magari lo ha fatto la settimana scorsa. Andiamo a vedere quindi sul grafico il trade che ho scelto per voi oggi, sostanzialmente visto che era un po' di tempo che non parlavamo di Fuzzimib sono andato a vedere che cosa stesse succedendo sull'indice diciamo di piazza affari, un movimento al rialzo piuttosto importante poi questi massimi intorno alla metà di novembre e poi un movimento via via sempre più debole, questo secondo me è una sorta di inversione di tendenza, abbiamo cercato di individuare un livello che potesse essere interessante per andare a vendere il Fuzzimib. Rapporti rischio rendimento favorevoli per i trader lo stop loss siamo andati a metterlo su un livello abbastanza distante, si poteva essere un attimino più conservativi ma avremmo perso diciamo in profittabilità del trade quindi avremmo dovuto mettere il nostro target price troppo distante quindi l'operazione sarebbe stata più da come dire insomma sarebbe stato difficile raggiungere il target in poco tempo, ricordiamoci che oggi è la settimana che porta a Natale, venerdì le borse saranno chiuse così come venerdì della settimana successiva quindi secondo me è bene magari avere stop e target un pochettino più stretti per cercare di alleggerire le posizioni in portafoglio. Voliamo subito sul sito investimenti.bnpparibas.it per vedere come impostare questo trade, clicchiamo su certificati a leva, turbocertificate e all'interno di questa sezione possiamo andare a cercare i sottostanti, nello specifico su Fuzzimib ce ne sono ben 123 quindi potete sbizzarrirvi per quanto riguarda la leva, il knockout, la scadenza o meno del prodotto io sono andato sull'NLBNPIT15V02, si tratta di un prodotto a termine quindi con scadenza a giugno e che diciamo ha un livello di knockout a 28.000 punti che secondo me è abbastanza lontano, vedete circa dell'8% mi offre comunque una leva di circa 13 volte. Andiamo a vedere operativamente all'interno della piattaforma di negoziazione, come diciamo si può impostare questo tipo di trade, il livello corretto per andare operare è di 18 centesimi con riferimento appunto ai valori che abbiamo indicato in precedenza, per quanto riguarda appunto i pezzi 5.550, questo significa investire 1.000 euro di controvalore sul certificato e con una leva a 13 come detto in precedenza quasi 13.000-14.000 euro sul valore complessivo del sottostante. Andiamo quindi infine a ricapitolare quelli che sono i livelli della nostra strategia, quindi abbiamo detto Fuzzimib operatività a ribasso entriamo a 26.150 punti, lo stop loss lo andiamo a posizionare a 26.600 punti, per quanto riguarda invece il target price 25.250 punti. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate.